C'è anche il gruppo su Facebook, avremo modo di dialogare in tanti modi diversi e faremo sapere alla cittadinanza quali saranno i prossimi appuntamenti perché come giustamente si diceva all'inizio, ripartire dai quartieri, ripartire dai bisogni della gente, sentirsi parte attiva della nostra città è il nostro principale obiettivo. Grazie a tutti e buonasera. Grazie.